Un esame di coscienza serio che dobbiamo fare anche noi preti, i biscovi, i cardinali, i catechisti, la gente e i chiesi. Dobbiamo riflettere perché la gente si è allontanata così dai chiesi. Non è solamente colpa della gente, è pura colpa della nostra. Sono delusi noi, più grandi, che diciamo e non facciamo, perché non crediamo a niente. Ecco, questa è la mancanza di fede. Un grido a niente e tanto male ne facciamo. Siamo praticamente atei. Puro che abbiamo i vestiti religiosi, puro che facciamo i discorsi su Gesù Cristo, puro che facciamo belli discorsi come avessi nei miei cose. Siamo praticamente atei. C'è gente, per esempio, che dice che il Signore avessi di intervenire. Il Signore non intervene più, è già intervenuto. Il Signore ha fatto tutto, più di donarci il suo figlio. Ma chi crede si salva. Chi non crede, amici miei, su questa terra fatica, si arrabbia e combina guai. Allora, come concludo questa riflessione? A chi rivolgerci? Alla Madonna. Oh Madonna, vera mamma, tu che chiangi per i figli, che si preoccupa, solo tu ne puoi aiutare. Danne tu forza e consiglio. Solo tu ne puoi imparare, vera mamma, vera figlia, a fare i padri, a fare i mamme, ad accompagnarsi i figli. Con quell'occhio grande e funne, occhi senza coda e paglia, ha guardato a quello figlio, sempre tiene le meraviglie. D'un anello pure a noi, su occhi belle, su occhi dulce, per guardare a questo mondo, senza ne spagnare, dalla croce. D'un anello pure a noi, su occhi belle e su occhi dulce, per aiutare, si guaglioni, assemparà a portare la croce. Ecco, a Madonna, la Madonna è con noi, carissimi amici. Il 2 di ottobre ha dato questo messaggio, messaggi che ci chiedono l'impossibile, ci chiedono di diventare santi questi messaggi della Madonna. Cari figli, vi chiamo e vengo in mezzo a voi perché ho bisogno di voi, ho bisogno di apostoli dal cuore puro. Allora, se io non prego, amici miei, se non preghiamo, se non ringraziamo il Signore, su un ce chiediamo perdono seriamente di peccati che continuamente facciamo. E un ce chiediamo aiuto, come fa il cuore mio, il cuore tuo a diventare puro? Chi lo purifica? Lo può purificare solo l'acqua e il sangue che sgorgano dal cuore trafitto di Gesù come una sorgente di misericordia per me, per te e per tutto il mondo. Il giovedì quando ci incontriamo con gli amici in carcere, la prima cosa che facciamo, eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo figlio e nostro Signore Gesù Cristo. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Lo ripetiamo 50 volte insieme, perché abbiamo bisogno, amici miei, che il nostro cuore sia purificato dall'amore, non dalle punizioni, non dai discorsetti, ma dall'amore. Perché dopo che sbagliamo abbiamo bisogno di essere amati e perdonati. Prego, dice la Madonna, ma pregate anche voi che lo Spirito Santo vi renda capaci, perché non lo siete, e vi guidi, che vi illumini e vi riempia, riempia. D'amore e di umiltà, non di soldi, di benessere, di piaceri, di chiuriti, no, di amore. E l'amore, ecco, costa sacrificio, se no non è amore. L'umiltà vi riempia di amore e di umiltà. Immaginate incontrare persone piene di amore e di umiltà, che meraviglia. Pregate che vi riempia di grazia e di misericordia, come sono stata riempita io di grazia, la piena di grazia. Solo allora mi capirete, quando incomincerete a sentire l'amore di Dio dentro di voi, capirete perché io sono preoccupata degli altri. Solo allora capirete il mio dolore per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio e sono miei figli, figli di Dio, però vivono senza l'amore di Dio. Allora potrete aiutarmi, sarete i miei portatori della luce e dell'amore di Dio. Illuminerete la via a coloro a cui gli occhi sono donati, ma non vogliono vedere. Io desidero che tutti i miei figli vedano mio figlio. Ecco, chi vede me, dice Gesù, vede il padre. Io desidero che tutti i miei figli vivano il suo regno. Vi invito nuovamente e vi prego di pregare per coloro che mio figlio ha chiamato. Vi ringrazio. Ecco, il Vangelo di oggi, ecco, ci conforta perché gli apostoli che seguono Gesù, non è che seguono Gesù perché hanno capito che è il figlio di Dio. Seguono Gesù per interesse. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli, Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Gesù disse loro, che cosa volete che io faccia per voi? Gli rispose, concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Perché pensavano che Gesù Cristo faceva un regno, dice, caccia gli romani, comandiamo noi, questa questione. Nel senso buono, no? Gesù disse loro, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli rispose, lo possiamo. E Gesù disse loro, il calice che io bevo anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati a tempo opportuno. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato. Ed è stato preparato da Dio, dal Padre. Gli altri dieci apostoli, avendo sentito che Giacomo e Giovanni chiedono una raccomandazione per essere i primi, cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, con santa pazienza, per esempio la pazienza che a mia mi manca e che la chiedo, pregate pure voi per me, perché tante volte io perdo la pazienza. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro, Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra di voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo. Schiavo di tutti, anche il figlio dell'uomo infatti è venuto per farsi, non è venuto per farsi servire. Ecco chiedo al caro regista Piero Arena di mandare l'immagine di Gesù. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, guardiamola questa immagine carissimi amici. Ma per servire quello è Gesù, questo è Gesù. Il Papa ha detto che dobbiamo ritornare al Dio di Gesù Cristo. Chi se lo dì è Gesù Cristo? Il Dio che si inginocchia davanti a me, davanti a te, non per punirci, ma per lavarci i piedi, per lavarci dai nostri peccati. Perché siamo tutti diabolici, tutti quanti vogliamo combannare, dominare. Ecco non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ecco allora a quei tempi Giovanni, Giacomo, gli altri apostoli ancora non avevano visto Gesù. Ancora non era arrivato il giovedì santo quando iniziano i tre giorni più importanti dell'anno. Ecco quando inizieranno i miei giorni importanti. Perché lì si vedrà se quello che abbiamo detto nella vita era vero o era falso. Come dice l'amico che mi ha scritto, dice spesso con un pizzico di malignità mi chiedo se ci credi veramente in quello che dici o è tutta finzione di un uomo che fa la sua parte. Io tante volte cerco di autoconvincermi. Carissimo amico, carissimi amici, io desidero ardentemente continuare a sperimentare. Non il mio impegno che mi sforzo e divento bravo, ma continuare a sperimentare l'amore di Gesù che perdona uno come me, perché io non sono degno di ciò che il Signore fa per me. Lui che ama tanto uno come me. Io desidero continuare a sperimentare il suo amore e ad annunciare il suo amore. Io ho bisogno di Lui, perciò ci salutiamo con questa preghiera a Gesù e ci diamo l'arrivederci. Ma sempre a Dio piacendo, alla prossima domenica, ma speriamo di sostenerci anche durante la settimana ricordandoci a vicenda. Io mi ricordo di voi, voi vi ricordate di me e pregamo, carissimi amici. Perché se non preghiamo siamo rovinati. Arrivederci. Ho bisogno di te Come dell'acqua Della fonte Lungamente cercata In un giorno d'estate Per lunghi sentieri Di vette Assolate Ho bisogno di te Come dell'aria D'ogni istante Perché la vita struncata Dalla sfissia Non muoia Non muoia Non muoia Non muoia Non muoia Non muoia Lo bisogno di te Come dell'aria Non muoia Alleluia 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 Grazie a tutti.